Posso contare? Posso andare No bro, ricorda, non sei mai tu a contare Sei tu quello che conta Va bene, a parte questo, a parte questo Questo deve essere nostro Dai L'ho pure azzerato adesso Sta per uscire il secondo episodio di Attack on Titan Sì, sì, lo so, raga, ma da noi sarà disponibile Gon del futuro UR, grazie Un punto, please Ma non si è fermato proprio? Niente? No, 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 bro Stasera sto carico, porco due Però non vorrei che questo sia una replica Dell'episodio precedente, dove partivo a razzo E poi faccio la fine della vecchia, capito? Let's go La prossima volta che voto Ve la faccio in giapponese Stasera avevo iniziato pure bene Però mi, stasera sei illegale Sei illegale Incredibile Si vede che Non ho fatto quello che dovevo fare Ma se vuoi sapere, tu prima hai detto che non guagliavi Eh, appunto Perché secondo te sono così fortunato? Perché non ho chiamato Secondo te, cioè Secondo te perché non ho fatto l'amore io sti giorni? Proprio per stasera arrivare carico sotto il punto di vista di culo Via E questo si chiama coito interrotto, però, eh E non va bene, fa male Ma perché sto fu non può mai essere UR? Nuovo soprattutto Non lo so Ah, il nuovo fu Perché il nuovo fu non può essere UR? Due fu R Due fu R Due fu R di fila Ma cosa? Ma è incredibile Ma che cazzo è successo? Ne ho trovati sei? Cioè, veramente, ho trovato due? Sì, sì, sì Però ho trovato tre fu di fila Il primo è stato SR Io dico Ma perché sto fu non può essere mai Pro Subito dopo Fu R Quello dopo ancora un'altra volta fu R Quanti punti? Quanto siamo? Sei a uno Sei a uno Eeeh Me gusta Me gusta Me gusta Allora Il massimo che ho fatto è stato con le tazze Con i martelli Non c'è prova Facciamo sentire un attimo il rumore del martello che va sulla play? Perfetto Ah, visto che magari qualcuno potrebbe effettivamente non crederci Vedete, questa è la play? Ci sono Quando vuoi Conta tu, vai Dico tre Dico due Dico uno E poi dico il valore di Joseph Zero Via Va bene Tu Beblazi hai contattato i cinesi di Xeno Verso io non ho parole Ma se si è ridotto anche a questo ragazzi veramente Comunque mi hai fatto fesso Te lo dico Io? Sì Sì In che modo ti ho fatto fesso? Eh perché hai fatto Dico tre Dico due Dico uno Poi se mi sta a fare delle chiacchiere Io lì sono partito Ah sei partito qua? Ah ok Sì, sì, sì Sono partito Sono partito da capoccia Come conto? Eh Grande Grazie per il tuo amore Oh grazie Ma io sono partito Perché sei partito? Ma come sei partito? Che cazzo ne so Perché sono partito? Ti so Ti sei fatto prendere? Un attimo Dammi un secondo Perché sono partito? Dammi un secondino Fu Perché non sei UR? Tu devi essere UR Mamma mia Su poi Oppure com'era quella Yamme de curata E curata Ti ammette il curata Eh no Eh no Ci dissociamo Se Bratti scherzava Mi dissocio Mi dissocio Scusami Hai detto palesemente Che ti piacciono le minorenni L'hai detto in giapponese Fra Va bene Dai bro Non puoi dire così però Dai Ma non so Manco che vuol dire Eh Te l'ho detto io Che hai detto Hai detto mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio da quello che ho detto Ma è maledetto Oramai Oramai posto È fatta Clip Sei su tutti i giornali domani mattina Vabbè Tu come lo sai Che significa quello? Perché ho sentito tanta gente dirlo Blazzi puoi contare Con la voce di Pippo? La voce di Pippo Sì ok Eh Tre Due Uno Di Ma che cazzo è raga? Ma che cazzo è? Ma sembrava malato Ma sembrava Sembrava una affezza dal covid Ma che cazzo Ma voglio dire Pippo Scusate Ma perché mi avete fatto chiedere sta roba? Come devo fare Blazzi Pippa Non Pippo No Eh beh Vabbè Dai Come devo fare? È difficile la voce di Pippo Ha bellissima l'abilità di posa di Wheeze Buon gustaio divino Wheeze è un buon gustaio L'unico problema è che ogni volta che accarezzò la vita Ma non hai trovato 17 UR Ma non me ne ero accorto Sono sei punti da recuperare Eh dai Tre meno due fa uno Via Dai Oddio Sei punti da recuperare per portarti in pareggio In pareggio certo Oh comunque avrò trovato 40.000 Zamasu che fanno con la mano Il vigile Brazzi ci stavi salutando Ti sentivo laggare Ma come? Sì un pochino Impossibile Sarà il gain del microfono Sì Quindi quando Il mic Ah oddio forse avrò mosso io qua senza rendermene conto Allora Brazzi Ti lancio questa scommessa Sì Aia Ti lancio questa scommessa bro Eh Se trovo Sì Una UR Sì Con un numero più alto della tua Sì Pareggiamo Ma scusami a che pro dovrei accettare? Perdonami Se sei uomo Se sei uomo Io perlomeno avrei accettato Ma perché devo accettare ste cose? Quindi mi stai dicendo che ti stai ritirando da questa scommessa Dai dai accetto Accetto Com'era la scommessa? Se trovo una UR con un numero più alto del tuo pareggiamo Va bene vai accetto E allora signori fermi! Ho tentato lo scam Brazzi ha boccato Adesso però È il momento Il momento di riuscire E far affondare il coltello dello scam 3, 2, 1 Via I punti No però dai Non posso scammare i punti Scammerei pure i punti ragazzi Eh no non mi scammai No non ci credo Pezzo di merda Pezzo di merda Pezzo di merda Gli è uscita la 11? Sì 458 Sì lo scam Pezzo di merda di questo uomo 3 Meno 2 Fa 1 Via per favore Anzi niente per favore Noi Dobbiamo essere Perché non sei UR? Ogni volta mi fa cacare sotto Ma basta con un R però Possiamo essere più forti Possiamo essere più forti Dai Dai vado Se cazzo Vado su R E vai Un punto sopra Ma smettila Vabbè Ma che sia Dio? Vabbè vabbè Se il nino non si fa cazzi suoi Però c'è inutile Capito Mi andava a vedere il VOD Mi andava a vedere il VOD Intanto ti scammavo Poi alla fine te lo dicevo Forse Dai pure Super Bu che ci carica Guardate Super Bu come sta Mamma mia Perché non sei UR? Che il maledetto Dove cazzo è? Dove stanno le UR? Dai 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 Vai Annaggia miseria Niente Qua entro sti dieci Se non troviamo manco nulla Nella UR garantita Andiamo di nuovo alla Golden Regà qua Vai Ci sei? Certo Conta tu vai Tre Meno due Fa uno Vamos Vai 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 Come tu bei sopra? Perché tu bei sopra? Che sai Dio? Perché la sua immagine è sopra? No Stanno facendo dieci a sette Tube sopra Stanno scammando Tube ha trovato la nuova UR Blad Regà Ma non è vero Ma non è vero bro Non darei Mirko Eh Un po' Un po' Dai Mirko Che c'è? Stanno trollando Ma ti stanno trollando bro Ma ti pare che non esultavo? Cioè un uovo andavo sopra di tre punti Non esultavo? Io? Tu stai a vedere Bruno? Io sì sì Che ha fatto? Niente Sennò risultava Lo sai che è pagliaccio quindi E non si poteva fare niente Sì Blazio è vero purtroppo regà Bruno pure tu no dai Oh io l'ho visto Da come lui Sta mentendo Ma non Ma non No Ragata Ma non è vero Fammi andare a vedere Ah basta Vabbè ah vai Vai Non fai niente Dai vai vai Vado in ordine di ricezione bro Guarda Vai dai vai vai Oh guarda bro Apri un attimo la live Vediamo Questo è l'ordine di ricezione Fra Cioè Ha scartata Ma allora Aspetta A parte che se l'avessi scartata Tutte quelle lì sopra Appena ci passo Ti risultano viste Guarda Aspetta io muovedo Se mi fa vedere il bod Aspetta un attimo Vaffanculo va Vaffanculo Che oh Vaffanculo va L'ha trovata veramente Vaffan Mette pure la musica sotto Penso Di sterco Sacco di sterco Arrabile Com'era Se non la trovi Com'era Com'era Se non la trovo Che facevi Che succedeva In giro l'episodio Vado a trovare Bra Ragazzi sapete che vi dico Bravi Bravi Snicciatelo Maledetto Non sono mai scammato i punti Mi volevi scammare pure l'ur Che hai trovato No bro ma te l'avrei detto alla fine Cioè quando tu magari eri convinto Di questa cosa Tipo Quando eravamo arrivati Poi alla golden ur No Io ti avrei detto Guarda blazi La golden ur Poi sonoramente Ficcarte dai Perché ho trovato ok L'ur L'episodio Arrivederci grazie Ma te l'avrei detto dopo bro Ti volevo lasciare ancora un po' Con la cosa Che magari Andavi uno sopra Ti fomentavi Io però nel mentre Ero dietro E me la ridevo Capito Io c'ho i miei adepti Tu non puoi guardare La varra in diretta Oh Non puoi Che la varra quando ti guarda Posso Posso Vai conta prego Vai 3 2 1 Perciò uno scammone di merdavia Ma io non solo sono scammone Sono anche truffatore Eh Truffatore di punti Non solo sei truffatore di punti Allora in teoria In teoria Dovrei pagarla E dovresti trovare tu Una UR nuova adesso Per pareggiare Eh ma magari Eh ma magari In teoria Sarebbe giusto Sarebbe giusto Però Eccola No aspetta Tapion è nuovo No Tapion è nuova Tapion è nuova È nuova È nuova Tapion è più Wizz Tapion è più Wizz Quanto stiamo? Quando stiamo? Quando è Wizz Wizz è vecchio? Allora stavamo pari Quando stavamo? 6 a 6 Lui si è portato a 9 Io sono andato a 9 Più 1 10 Wizz Un razziatore Ma sì vabbè Io avevo contato 10 a 11 Per Blazzi Perché Siamo tornati Siamo tornati in vantaggio Fermi Siamo 10 a 9 O non so quanto è il punteggio Per me UR garantita Eh È qui bro Però te lo devo ridire di nuovo No basta Hai rotto il cazzo Basta No No Basta Ma manco fa così però No Hai rotto quello che mi volevi togliere prima No bro Guarda che così Blazzi guarda Così Se tu dici no E io mo ti trovo la UR nuova Basta Hai rotto il cazzo Basta Quindi che vuoi fare? Sei sicuro Blazzi? Vado avanti per la mia strada Blazzi attenzione Deve portarmi alla vittoria Tu sei sicuro Che non vuoi farlo? Guarda che se trovo quella nuova Poi è So cazzi amari Blazzi No Sei sicuro? Non vuoi giocartela? Vai apri Vai sei pronto? Vai apri Non accetto Non accetti Perfetto Vai Oh me devo andare ad aprire la live Oh non è accettato a posto Eh 3 2 1 Via Rega io vado ad aprire la live Vai vai Io vado ad aprire la live Dimmi che ti vado Ma rovegetto super saian E' tutto Vai Sì Cazzo Vai con concetto A nuova UR Sì Io te l'ho detto Blazzi Ti ho dato anche la possibilità E nel mentre in cui ti stavo dicendo Quella proposta Io avevo aperto la capsula E sapevo che avevo trovato il gogetta nuovo E tu Hai fatto la pussy Non accettando Potevi accettare Uscendo da uomo Te ne sei andato da pussy Bello mio Oh Ma avevi già aperto Ma aveva già aperto E stavo a fare la roba Certo Io ti stavo offrendo la possibilità Di uscire da questo episodio Da uomo Tu hai rifiutato Cioè Ma guardate Ma è scam Non è scam Io ti ho offerto Ma è scam Aveva già aperto Prima Prima che io dessi Il no finale Certo Ti stavo ingolosendo Ti stavo dando Un'opportunità Blazzi Tu mi hai sbattuto La porta in faccia Io annullo Perdonatemi Io annullo Il mio Pronostico Non mi dite nulla Cosa No Cosa Ma io lo annullo No Cosa Ti ha votato Tu Beh Scammata questa vittoria Ma io preferisco Più rimborsare i punti E annullare totalmente Ma io non posso Scammare i punti No ragazzi Io Devo fare Devo ridarvi i punti Ragazzi Cioè Devo Devo assolutamente Ridarveli Questa non è affatto Una rapina Ragazzi No 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 Non è una rapina Assolutamente No Ci sto mettendo la faccia Come vedete Non è una rapina No 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 Le Gary Devo ridarvi i punti Millen In Into Ą Red Cuid Che 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 Grazie a tutti